Domani è il giorno del passaggio del 102esimo Giro d'Italia nelle Marche. L'arrivo dell'ottava tappa Tortoretto Lido-Pesaro di 239 km è previsto per le 17 circa in Viale della Repubblica nei pressi della Palla di Pomodoro, davanti al simbolo per eccellenza della città di Rossini, una città in rosa ma anche blindata nella viabilità. La sospensione della circolazione riguarderà tutto l'itinerario, da un'ora e mezza prima del passaggio dei corridori, nelle località previste con l'arrivo della carrovana pubblicitaria che precede il Giro e fino a circa mezz'ora dopo, tenendo conto delle velocità variabili dei corridori e di tutti i tempi e i veicoli al seguito, ammiraglie, stampa e scorte varie. Ma già da stasera, a partire dalle 18 e fino alle 24 di domani, è stato inibito il parcheggio nelle vie interessate dal Giro e dalla carovana. I corridori, lasciata a San Benedetto, arriveranno a Senigallia intorno alle 14.20 e poi una volta a Ponte Sasso, gireranno su per San Costanzo dove un'intera cittadina si è mobilitata per accogliere il suo campione di casa, Giovanni Carboni, attuale numero 2 della classifica generale, verso le 14.30 e poi si fionderanno verso Calcinelli, da qui Monte della Matera, poi alle 15.30 Santa Maria dell'Arzilla, Candelara, Santa Veneranda, chiusa di Ginestreto, scalata del Monte Luro e poi Gabice, da lì tutta panoramica fino a Pesaro. Le vie interessate dal Giro, una volta arrivati dalla Nazionale, saranno Via Mameli, Viale Trieste e Viale della Repubblica, dove è stato posizionato il traguardo. Per godersi nel modo migliore l'arrivo, l'organizzazione consiglia il marciapiedi di Viale della Repubblica e quelli di Viale Trieste. Lato porto, invece, sarà transennato, quindi impossibile la visione. Organizzate anche navette gratuite che collegheranno il campus con Piazzale Matteotti, con passaggi ogni 20 minuti, dalle 14 alle 20.00. Anche il Comune di Fano, sul fronte della circolazione, ha preso le sue contromisure, essendo interessato dal passaggio dei corridori nella frazione di Ponte Sasso. Inibito al traffico, il tratto di statale interessato, che sarà chiuso dalle 12 alle 15 di domani. Si consiglia per la mobilità l'utilizzo dell'autostrada. Le scuole, inoltre Fantini e Fa di Bruno, termineranno anticipatamente le lezioni ed il servizio con scuola bus però sarà garantito.